Tra tutti gli esseri viventi, l'uomo è l'unico che sa di avere un futuro, ma il futuro bisogna conservarlo intatto per la nostra vita. Il maschio, l'uomo maschio, corre un gravissimo rischio di perdere questo suo futuro se viene colto da un particolare tipo di cancro che il cancro alla prostata. Io credo che ogni maschio debba dimostrare non solo la sua virilità ma la sua intelligenza nel capire che questo potere va conservato nel futuro e dunque egli deve avere la capacità e il piccolo coraggio di ricorrere al medico specialista, all'urologo quando naturalmente ha raggiunto un'età abbastanza importante come i 50 anni, di farsi visitare. Anche perché il cancro alla prostata è silenzioso, non si fa avvertire, ti colpisce alla fine quando è troppo tardi a tradimento. Ecco perché io credo che l'uomo che non è solo virile ma è intelligente sappia governare il suo futuro anche da questo punto di vista.